Vorrei arrivare anche a Pelemiste perché come è nato questo aneddoto, perché Peleli ha fatto i complimenti per come giocava, era un po' brasiliano per la tecnica, la fantasia che aveva. Io pensavo di essere un giocatore normale, però quando siamo stati un mese insieme, c'è gente che lo vede solo per televisione, io sono stato due volte in America con il Bologna, 60 giorni che la gente spende migliaia di euro per andare a New York. Noi avevamo una sede a New York, noi mangiavamo qui, loro mangiavano di là, ci salenavano allora che non c'erano i campi al Central Park e niente, quando gli dicevano oggi viene il Puma, salite, vi portiamo all'aeroporto, siamo andati a Montreal, a Chicago, a Boston, insomma, si giocava le partite contro il Santos. E niente, giocavo così e poi l'ultima partita tutti le la chiedevano e nessuno la dava, insomma, la maglia, la maglia, sì, ma io non avevo il coraggio di chiedere perché dico se gente che gliela chiede, Perani, Bulgarelli, questa gente qui, lui non gliela dà, poi se gliela chiedevo che me la dia. Invece l'ultima partita, mi fece così, ha finito, no? Io si giocava la maglia e io l'unica parola che sapevo, White, gli dice perché, e lui mi disse perché mi piace come giocavi, perché, lui ne piacciono tanti i giocatori di Blomone, hai capito? Però, ha detto che gli piacevo come giocavo, quindi ci ho creduto anch'io, ci ho creduto, dico, se lo dice lui, vuol dire che... E la maglia ce l'ha ancora? Ce l'ha ancora la maglia e ogni volta che c'è i mondiali diventa sempre famosa perché mi chiedono di qua, di andare di qua, di là, e poi, insomma, sempre questo paragone con Maradona, con Messi, e loro, però, insomma, sono tre, è un ci meglio che, insomma, sono diventato più famosi con queste maglie di Pelé che aver giocato in Serie A, quello è vero, te lo dico io, guarda. E ci credo, e ci credo. Quindi quando fanno le manifestazioni di maglie di numeri 10 mi chiamano e la porto lì e vado, e insomma, sono contento di aver giocato contro il miglior giocatore del mondo che mi ha detto che gli piaceva come giocavo, quindi tanti vorrebbero una parola bella come ha detto lui a me.